i fiori della piccola ida andersen i miei poveri fiori sono completamente morti disse la piccola ida erano tanto belli ieri sera e ora tutte le foglie pendono appassite perché fanno così chiese al baccelliere seduto sul sofà infatti gli voleva molto bene lui conosceva storie meravigliose e ritagliava delle figure tanto divertenti cuori con dentro delle piccole signore che ballavano fiori e grandi castelli in cui si potevano aprire le porte era un baccelliere molto allegro perché i fiori sembrano stare tanto male oggi chiese ida di nuovo mostrandogli un'interazione un vero mazzolino di fiori completamente appassito ebbene sai che cos'hanno disse il baccelliere i fiori sono stati al ballo questa notte ed ecco perché hanno la testa che ciondola ma i fiori non sapranno ballare disse la piccola ida ma sì disse il baccelliere quando diventa buio e noi altri dormiamo allora saltano allegramente dappertutto ballano quasi ogni notte i bambini non possono partecipare a quel ballo ma sì disse il baccelliere le margheritine e i piccoli mughetti dove ballano i fiori più belli chiese la piccola ida non sei stata spesso fuori dalla porta della città vicino al grande castello dove d'estate abita il re e dove c'è lo splendido giardino con tantissimi fiori sì che hai visto i cigni che si avvicinano a nuoto quando dai loro le briciole di pane credimi la fuori ci sono veramente dei balli ero lì fuori nel giardino ieri con la mia mamma disse ida ma gli alberi erano senza foglie e non c'era rimasto più un fiore dove sono quest'estate ne ho visti così tanti sono all'interno del castello disse il baccelliere devi sapere che appena il re e tutta la sua corte tornano in città i fiori corrono immediatamente dal giardino dentro al castello e si divertono dovresti vedere le due rose più belle in assoluto si mettono sedute sul trono come re e regina tutte le rosse creste di gallo si mettono di lato e si inchinano sono i gentiluomini di corte poi vengono i fiori più graziosi e poi c'è il gran ballo le violette rappresentano piccoli cadetti della marina ballano coi giacinti e con i crochi e li chiamano signorine i tulipani e i grandi gigli gialli sono le signorine anziane controllano che si balli come si deve e che tutto si svolga a dovere ma chiese la piccola ida non vi è nessuno che fa qualcosa ai fiori perché ballano nel castello del re non c'è nessuno che sappia bene qualcosa disse il baccelliere qualche volta di notte bisogna dirlo passa il vecchio intendente del castello che ha la responsabilità di sorvegliare tutto questo porta con sé un grande mazzo di chiavi ma appena i fiori sentono il tintinnare delle chiavi si azzittiscono completamente si nascondono dietro le lunghe tende tirando fuori la testa sento dal profumo che qui dentro vi sono dei fiori dice il vecchio intendente ma non riesce a vederli è divertente disse la piccola ida battendo le mani ma nemmeno io potrei vedere i fiori ma sì disse il baccelliere ricordati semplicemente quando andrai lì di nuovo di guardare dentro la finestra così li vedrai senz'altro io l'ho fatto oggi c'era un lungo narciso giallo sdraiato sul sofà era una dama di corte anche i fiori del giardino botanico possono andarci riescono a fare tutta quella strada sì certamente credimi disse il baccelliere perché se volessero potrebbero volare non hai visto le belle farfalle quelle rosse gialle e bianche sembrano quasi dei fiori e lo sono state sono saltati via dal gambo nell'aria sbattendo poi i petali come se fossero piccole ali e così volarono e poiché salirono bene ebbero il permesso di volare anche di giorno non dovettero tornare a casa stare ferme sul gambo e così i petali finirono per diventare ali l'hai visto tu stessa però potrebbe anche essere che i fiori all'interno del giardino botanico non siano mai stati al castello del re fuori città e che nemmeno sappiano che là ci sia tanta allegria di notte ecco perché ora ti dico qualcosa che sorprenderà molto il professore di botanica dell'università quello che abita qui vicino lo conosci non è vero quando vai nel suo giardino devi dire ad uno dei fiori che ci sarà un grande ballo al castello fuori città così questo fiore lo dirà a sua volta a tutti gli altri e così voleranno tutti via se poi il professore dovesse uscire nel giardino non troverà un solo fiore e non potrà assolutamente capire dove siano andati tutti i fiori ma come farà il fiore a raccontarlo agli altri i fiori non sapranno parlare no non lo sapranno infatti rispose il baccelliere ma allora faranno una pantomima non hai visto che quando tira un po' di vento tutti i fiori annuiscono con la testa e muovono tutte le foglie verdi è veramente come se parlassero il professore capisce la pantomima chiese Ida sì certo credimi una mattina scese nel suo giardino e vide una grande ortica che con le foglie faceva la pantomima a un bel garofano rosso diceva sei così grazioso e ti voglio tanto bene ma queste cose non piacciono per niente al professore che picchiò subito l'ortica sulle foglie poiché loro sono le sue dita ma si bruciò e da allora non ha mai osato toccare un'ortica che divertente disse la piccola Ida ridendo non sono cose da far credere alla bambina disse il noioso consigliere di cancelleria che era venuto a far visita ed era seduto sul sofà non gli piaceva per niente il baccelliere e si imbronciava sempre quando lo vedeva ritagliare quelle figure strane e divertenti una volta un uomo appeso a una forca teneva un cuore in mano un cuore perché egli era un ladro di cuori un'altra volta una vecchia strega a cavallo di una scopa portava il marito sul naso tutto questo non piaceva il consigliere di cancelleria e allora diceva come ora non sono cose da far credere alla bambina quella è stupida fantasia ma la piccola Ida trovò che fosse tanto divertente ciò che il baccelliere raccontava dei suoi fiori e ci pensò molto i fiori stavano con la testa penzoloni perché erano stanchi avendo ballato tutta la notte erano sicuramente malati li portò allora vicino a tutti gli altri giocattoli che stavano su un grazioso tavolino e l'intero cassetto era pieno di belle cose nel letto della bambola vi era Sofia la sua piccola bambola che dormiva ma la piccola Ida le disse ti devi proprio alzare Sofia e accontentarti di dormire nel cassetto questa notte i poveri fiori stanno male dunque devono stare nel tuo letto così forse guariranno e quindi sollevò la bambola ma essa sembrava tanto accigliata e non disse una parola poiché era in collera perché non poteva tenere il letto per sé poi Ida mise i fiori nel letto della bambola li coprì per bene con la copertina e disse loro di stare buoni e tranquilli così avrebbe preparato loro del tè in modo che potessero guarire e alzarsi l'indomani e tirò bene le tende intorno al lettino affinché non avessero il sole negli occhi per tutta la sera non potei fare a meno di pensare a ciò che le aveva raccontato il baccelliere e ora che anche lei dovette andare a letto non potei non andare prima dietro le tende che coprivano le finestre dove vi erano i bellissimi fiori della madre giacinti e tulipani e sussurrò sottovoce so bene che andrete al vallo questa notte ma i fiori fecero finta di non capire e non mossero una foglia ma la piccola Ida sapeva con certezza le cose che sapeva nel suo letto rimase a lungo a pensare a quanto sarebbe carino vedere i bei fiori ballare al castello del re fuori città chissà se i miei fiori hanno veramente partecipato ma poi si addormentò in piena notte si svegliò di nuovo aveva sognato i fiori e il baccelliere che si faceva sgridare dal consigliere di cancelleria il quale diceva che le voleva far credere delle storie nella stanza da letto dove stava Ida era un gran silenzio la lampadina da notte sul tavolo era accesa e suo padre e sua madre dormivano chissà se i miei fiori sono ora nel letto di Sofia si chiese lo vorrei tanto sapere saltò un po' e guardò verso la porta che era socchiusa di là vi erano i fiori e tutti i suoi giocattoli tese l'orecchio e allora le sembrò di sentire suonare il pianoforte nel salotto ma piano piano e in modo tanto grazioso come non aveva mai sentito fino allora ora tutti i fiori ballano probabilmente e di là disse oh dio mio come li vorrai vedere ma non osò alzarsi avrebbe svegliato suo padre e sua madre magari venissero di qua disse ma i fiori non vennero e la musica continuava a suonare in modo tanto grazioso ed ecco che la piccola Ida non poté più resistere era troppo bello scivolò fuori dal suo lettino e andò senza far rumore fino alla porta e gettò uno sguardo nel salotto oh com'era divertente quello che riuscì a vedere non vi era nessuna lampada da notte eppure era tutto luminoso la luna brillava attraverso la finestra irradiando la parte centrale del pavimento era quasi come se fosse giorno tutti i giacinti e i tulipani erano allineati in due lunghe file sul pavimento non vennerano più alla finestra lì i vasi erano vuoti sul pavimento i fiori ballavano con tanta grazia girando fra di loro formavano vere catene e si tenevano per le lunghe foglie verdi quando giravano intorno a un altro fiore ma al pianoforte sedeva un grande giglio giallo che la piccola ida aveva certamente già visto quest'estate poiché si ricordava bene che il baccelliere aveva detto oh come assomiglia alla signorina linee allora tutti quanti risero di lui ma ora sembrava anche a ida che il lungo fiore giallo assomigliasse alla signorina e suonasse come lei a volte metteva il suo lungo viso giallo da una parte a volte dall'altra segnando con la testa la cadenza della bella musica nessuno notò la piccola ida ora ella vide un grosso croco blu saltare al centro del tavolo dove erano i giocattoli andare direttamente verso il letto della bambola e scostare le tende lì giacevano i fiori malati ma questi si alzarono immediatamente e fecero agli altri cenno con la testa mostrando di voler ballare con loro il vecchietto brucia profumi il cui labbro inferiore si era staccato era in piedi e si inchinava davanti ai bei fiori che non sembravano per niente ammalati saltarono giù in mezzo agli altri pronti a divertirsi fu come se qualcosa cadesse dal tavolo Ida guardò in quella direzione era il fascio di ramoscelli per il carnevale che salto giù pensando di far parte anch'esso dei fiori infatti era molto grazioso e in cima vi era una piccola bambola di cera che aveva in testa un cappello molto largo uguale a quello che portava il consigliere di cancelleria il fascio di carnevale saltellava in mezzo ai fiori sulle sue tre gambe di legno rosse pestando piuttosto forte perché ballava la mazzurca una danza che gli altri fiori non sapevano ballare perché essendo tanto lezzeri non potevano pestare coi piedi la bambola di cera sul fascio di carnevale diventò di colpo grande e lunga fece pirouette sopra i fiori di carta gridando abbastanza forte non sono cose da far credere alla bambina quella è stupida fantasia e così la bambola di cera assomigliava esattamente al consigliere di cancelleria con il largo cappello e con un'aria altrettanto gialla e contrariata ma i fiori di carta si avvolsero lungo le sue esili gambe e quindi lui si rannecchiò tornando ad essere una piccolissima bambola di cera era così divertente da vedere la piccola Ida non poté trattenersi dal ridere il fascio di carnevale continuò a ballare e il consigliere di cancelleria dovette ballare con lui che si facesse grande e lungo oppure che diventasse la piccola bambola di cera gialla con il grande cappello nero non cambiava niente allora gli altri fiori pregarono per lui specialmente quelli che erano stati nel letto della bambola e il fascio di carnevale lasciò stare in quell'istante si sentì bussare forte da dentro il cassetto dove si trovava la bambola di Ida Sofia insieme a tanti altri giocattoli il vecchietto bruciaprofumi corse fino al bordo del tavolo si stese sulla pancia e riuscì ad aprire un pochino il cassetto ed ecco che Sofia si alzò in piedi guardandosi attorno con stupore si vede che qui c'è un ballo disse perché non me l'ha detto nessuno vuoi ballare con me? chiese il vecchietto bruciaprofumi certo che sei proprio bello come compagno di ballo disse voltandogli le spalle si sedette poi sul cassetto pensando che uno dei fiori sarebbe sicuramente venuto ad invitarla a ballare ma nessuno venne allora tossì ma non venne nessuno lo stesso il vecchietto bruciaprofumi ballava tutto solo e non era così male visto che nessuno dei fiori sembrava guardare Sofia ella si lasciò cadere dal cassetto direttamente giù sul pavimento provocando un grande allarme tutti i fiori accorsero infatti attorno a lei chiedendole se si era fatta male e tutti erano tanto gentili con lei specialmente i fiori che avevano riposato sul suo letto ma non si era assolutamente fatta male e tutti i fiori d'ida la ringraziarono per il letto tanto delizioso e l'apprezzarono tanto la condussero al centro del pavimento dove la luna splendeva ballarono con lei e tutti gli altri fiori formarono un cerchio tutto intorno adesso Sofia si divertiva non le piaceva per niente stare nel cassetto ma i fiori dissero ti ringraziamo tanto ma noi non viviamo molto a lungo domani saremo tutti morti ma di alla piccola Ida di seppellirci nel giardino dove c'è pure il canarino così l'estate prossima cresceremo di nuovo e saremo ancora più belli ma non dovete morire disse Sofia e baciò i fiori in quell'istante la porta della sala si aprì e un grande numero di splendidi fiori entrò ballando Ida non riuscì a capire da dove venissero erano sicuramente tutti i fiori del castello del re all'inizio arrivarono le due splendide rose con piccole corone d'oro in testa erano un re e una regina poi vennero le più graziose violaciocche e i garofani più belli e salutarono da tutte le parti portarono con sé la musica i grandi papaveri e le grandi peonie soffiavano tanto nei baccelli di pisello da essere completamente rossi in viso le campanule blu e i piccoli bucaneve bianchi tintinnarono come se portassero delle campanelline era una musica divertente poi vennero tanti altri fiori e ballarono tutti quanti le viole blu e le pratoline rosse le margheritine e i mughetti tutti i fiori si baciarono fra di loro era così bello da vedere alla fine i fiori si diedero la buonanotte e quindi anche la piccola ida se ne tornò senza far rumore a letto dove sognò tutto quello che aveva visto quando la mattina dopo si alzò andò subito al tavolino per vedere se i fiori erano ancora lì tirò la tenda del lettino eh sì eccole tutti quanti ma erano completamente appassiti molto più di ieri sofia stava nel cassetto dove l'aveva messa lei sembrava molto assonnata ti ricordi quello che mi dovevi dire disse ida ma sofia aveva un'aria molto sciocca e non disse una parola non sei affatto buona disse ida eppure tutti ballavano con te poi prese una scatolina di carta sulla quale erano bei disegni di uccelli la aprì per mettervi dentro i fiori morti questa sarà la vostra bella bara disse e quando verranno qui i cugini norvegesi parteciperanno ai vostri funerali fuori in giardino così che quest'estate possiate crescere e diventare ancora più belli i cugini norvegesi erano due ragazzi svelti si chiamavano Jonas e Adolf il padre aveva regalato loro due archi che avevano portato a far vedere a ida lei raccontò dei poveri fiori che erano morti e loro ebbero il permesso di seppellirli i due ragazzi camminavano avanti con gli archi sulle spalle e la piccola ida veniva dietro con i fiori morti nella bella scatola in giardino fu scavata una piccola fossa ida prima baciò i fiori poi li mise con la scatola in terra e Adolf e Jonas tirarono con i loro archi sopra la tomba perché non avevano né fucili nei cannoni grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti